Quello del progetto è sicuramente quello di rilanciare un ruolo, una funzione sociale oltre che culturale della scuola nei quartieri. Questo progetto che mi è stato proposto dal Movimento per la promozione umana e dai dirigenti che hanno immediatamente aderito e che si chiama Coro Orchestra Brancaccio è proprio un voler ripartire in questo quartiere, offrire un'opportunità a questi ragazzi ma anche alla città tutta. In un momento difficile è proprio un progetto che riesca a guardare lontano, che può offrire una speranza di rinascita della funzione e del ruolo della scuola Palermo.